Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, terza parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato a Giosuè Carducci. Ci eravamo lasciati con Carducci che nel 1863 compone l'inno A Satana, costituito da 50 quartine di senari, secondo lo schema ABCB. L'autore lo definisce chitarronata, cioè non riuscito nello stile ma foriero di verità. Verrà pubblicato nel 1865 a Pistoia, in un numero ridottissimo di esemplari e fuori commercio, con lo pseudonimo di Enotrio Romano, pseudonimo che Carducci userà fino al 1877. Bene, procediamo. Nel 1864 nasce Laura, la figlia secondogenita di Carducci. Dopo l'omaggio dantesco con la prima figlia, Beatrice, non poteva adesso mancare quello a Petrarca. Nel 1866, all'età di 31 anni, Carducci è tra i fondatori della loggia massonica bolognese Felsinea e ne diviene il segretario. Nel 1867, quindi l'anno dopo, la loggia viene sciolta e Carducci viene espulso dalla massoneria per aver scritto un opuscolo di protesta. Vi rientrerà soltanto vent'anni dopo, nel 1886, affiliato alla loggia propaganda massonica di Roma. La sua poesia, intanto, sotto l'influsso delle letterature straniere, in particolare di quella francese e tedesca, è sempre più improntata al laicismo, mentre le sue idee politiche si orientano in senso repubblicano. Si dedica allo studio del tedesco e in breve tempo riesce a padroneggiare poeti quali Klopstock, Goethe, Schiller, von Platen e altri. Il primo giugno del 1868 pubblica a Pistoia la raccolta Levia Gravia, con lo pseudonimo di Enotrio Romano. Raccolta composta da gran parte delle rime samminiatesi, quindi il periodo che va dal 1856 al 1857, e da una ventina di nuove poesie, escludendo i testi politici. L'opera non ha successo. Successivamente Carducci riconoscerà che la pubblicazione dei testi politici avrebbe senz'altro suscitato maggiore interesse e infiammato il pubblico, ma a caldo si indigna per la pecoraggine del pubblico e si scaglia contro i sedicenti critici democratici, che volevano soltanto, aperte virgolette, discorsoni e versioni. Chiuse le virgolette. Si scontra duramente anche con alcuni colleghi di università e attraversa un periodo di forte misantropia. Qualche mese più tardi scriverà, aperte virgolette, io alle volte ho paura di me stesso, quando rivolgendo l'occhio al mio di dentro veggo che non istimo e non amo quasi più nessuno, che mi infingo in continuo sforzo per non mostrare a quelli con cui discorro quanto sono buffoni e sputacchiabili. Chiuse le virgolette. Il 22 ottobre del 1868 i Garibaldini, Monti e Tognetti fanno esplodere una bomba alla caserma Serristori di Roma, provocando la morte di 23 soldati francesi e di 4 passanti, tra cui una bambina. Il 24 novembre vengono ghigliottinati e lo stesso mese Carducci compone un epodo in loro memoria ed evolverà l'incasso delle vendite ai familiari dei condannati. Il 3 febbraio del 1870 muore la madre, cui era legatissimo. A questo dolore si aggiunge quello fortissimo per la morte improvvisa e imprevedibile del figlio Dante, il 9 novembre del 1870 all'età di tre anni. In una lettera del 23 dicembre scrive, aperte virgolette, non voglio far più nulla, voglio inabissarmi, annichilirmi. Chiuse le virgolette. Al piccolo Dante dedica le celeberrime quattro quartine di pianto antico. Riesce gradualmente a riprendersi, usando le armi consuete dello studio e dell'insegnamento. Il primo marzo del 1872 casa Carducci sarà poi allietata dalla nascita dell'ultima figlia, Libertà, che verrà sempre chiamata Titti. Il Barbera intanto propone a Carducci di pubblicare un libro con tutte le sue poesie, dalle prime alle più recenti. Giosuè accetta e nel febbraio del 1871 esce l'opera Poesie, suddivisa in tre parti. Decennali, le opere composte tra il 1860 e il 1870. Levia Gravia, le opere composte tra il 1857 e il 1870, e che era già uscita in prima edizione nel 1868. E Juvenilia, si tratta delle opere giovanili, come si comprende dal titolo, composte tra il 1850 e il 1857. La produzione poetica di Carducci prosegue e nel 1873, esce l'opera dal titolo Nuove Poesie, composta di 44 componimenti. Il libro non risparmia critiche dirette a uomini politici del tempo e suscita forti reazioni. Nel complesso, però, il valore dell'opera viene riconosciuto sia in Italia sia all'estero, in Francia, Russia e Germania. La prima edizione viene subito esaurita, e sull'onda di questo successo va esaurita anche l'opera Poesie, pubblicata, come sappiamo, qualche anno prima dallo stesso Barbera, che la ristampa nel 1874, nel 1878 e nel 1880. In quegli anni Carducci comincia a frequentare assiduamente la libreria Zanichelli di Bologna, situata sotto il portico del Pavaglione, nei pressi del palazzo dell'Archiginnasio, nel quale al tempo era situata l'università. Nicola Zanichelli, che voleva avviare una casa elitrice, si fa promettere dal Carducci uno studio sulle poesie latine dell'Ariosto, dato che con un anno di ritardo nel 1875 si sarebbe celebrato a Ferrara il quattrocentesimo anniversario della sua nascita. Inizia così una collaborazione molto duratura. Nell'aprile del 1875 Zanichelli pubblica la seconda edizione dell'opera Nuove Poesie e il mese successivo il promesso studio Ariostesco. In questo periodo il Carducci decide di abbandonare la poesia sociale e tornare al primo amore, la classicità. Dirà, aperte virgolette, alle mie odi barbare pensai fin da giovane, ne formai il pensiero dopo il 1870, poiché biletti i lirici tedeschi. Se loro, perché non noi? Chiuse le virgolette. È un tuffo nel passato questo che Carducci affronta con la consapevolezza di chi si è creato negli anni una precisa identità e non ha quindi intenzione di procedere a una semplice imitazione. Stimolato dall'esempio dei poeti tedeschi, Carducci vuole dimostrare che la poesia italiana può non solo riprendere le tematiche dei greci e dei latini, ma anche mantenerne il metro. Klopstock aveva riproposto in tedesco l'esametro latino, Goethe aveva risuscitato le forme greche e la scuola teutonica si credeva così la sola capace dell'impresa, in quanto le lingue romanze si erano allontanate troppo attraverso la corruzione linguistica medievale dal modello originario. Tutto ciò non può che spronare Carducci a tentare. Con parole sue, aperte virgolette, non so perché quel che egli fece col duro erestio tedesco non possa farsi col flessibile italiano. Chiuse le virgolette. Queste sono parole di una lettera che scriverà a Chiarini nel 1874 riferendosi alle elegie romane di Goethe. Nel 1873 escono i primi componimenti relativi a questo progetto e quattro anni dopo, nel 1877, quattordici odi vedranno la pubblicazione presso Zanichelli con il titolo di Odi Barbare. Queste opere sono un vero e proprio manifesto della concezione carducciana del mondo, della storia, della natura. Per Carducci gli eventi del passato non hanno potuto sconvolgere la natura, che continua imperturbabile il proprio corso attraverso le aurore e i tramonti che costituiscono lo sfondo prediletto della raccolta. La storia però deve fungere da maestra e i costumi degradati del presente possono risollevarsi solamente attraverso il maestoso insegnamento di un passato rievocato come una fusione della storia nella natura, passato che è ora spoglio delle proprie componenti truci o barbare e che diventa materia prima della poesia. Il leitmotiv della raccolta è quello di una nave che pacificamente risale la corrente del tempo. Non c'è quindi più furia politica in carducci, non c'è rabbia né critica sociale. Le odi attaccano sì il cattolicesimo, esaltano sì l'impero romano ed esprimono certamente la visione politica carducciana, ma lo fanno senza la carica polemica precedente. I versi si fissano su un particolare attuale, ad esempio l'adda che scorre, o il sole che illumina il campanile della basilica di San Petronio, o ancora il poeta che contempla le terme di Caracalla, per rievocare gli eventi storici trascorsi, e gli stessi versi si chiudono in una contemplazione solenne della natura. I modelli sono Omero, Pindaro, Teocrito, Virgilio, Orazio e Catullo, accanto a cui agiscono Dante, Petrarca e Foscolo, cui vengono fatti riferimenti espliciti. Dopo i difficili trascorsi storici di quel periodo, il grande pubblico è però desideroso di una poesia più leggera, e accoglie l'opera del Carducci con freddezza, preferendogli lo stile lineare e il lessico semplice della raccolta di Olindo Guerrini dal titolo Postuma, pubblicata con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti. Negli anni compresi tra il 1878 e il 1880, Postuma avrà sette edizioni, mentre le O di Barbare si fermeranno a tre, e se sono lette e vendute è principalmente per l'indiscussa fama del loro autore. La prima reazione della critica è anche più severa di quella del pubblico, ma successivamente il valore dell'opera verrà riconosciuto. A questa prima edizione seguiranno le nuove O di Barbare del 1882 e del 1886, successivamente le terze O di Barbare del 1889, e infine l'edizione O di Barbare lettura del 1893. Bene, direi che per questa terza parte abbiamo fatto abbastanza, spero che abbiate trovato il video interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e come sempre, grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima!